Buongiorno a tutti raga, io sono Stickets e oggi siamo qua con un video diverso dal solito raga, perché è un video diverso? Oggi siamo qua che voglio mostrarvi le figurine che colleziono fuori dai set, quindi che sono solo figurine, solo le singole figurine Chiamate anche da me o generalmente chiamate Figu Carriera Oggi vi mostrerò le figurine che io personalmente raccolgo e che secondo me un giorno potrebbero avere più valore Ma anche quelle che secondo me sono le più belle, le più importanti, i giocatori più significativi che magari hanno vinto qualcosa, un pallone d'oro O più semplicemente che sono magari parti, abitano vicino a me o chissà che cosa Ognuno può fare quello che vuole per queste figurine Prima di cominciare a mostrarvi tutte le figurine che raccolgo, vi chiedo a lasciare un bel like e supporto, iscriviti al canale se ancora non l'avete fatto Vi ricordo raga di attivare anche la campanellina, vi ricordo raga l'hashtag salutami se volete essere salutati nel prossimo video o quello dopo ancora, dipende quanto tempo per farlo Ah già e poi raga, scrivetemi se riuscite a vedere il video per primi, lasciando like per primi, commentando per primi, che a me fa sempre molto piacere Detto questo, ora vi mostro tutto quello che colleziono al di fuori dei set, le figure più importanti Vabbè raga, come... vabbè raga, ovviamente che cerco di collezionare più figure possibili di Messi CR7, tutte della panini e di quelle che riesco a raccogliere, adesso vi faccio vedere velocemente Generalmente raga queste figurine sono tutte doppie, le prime che trovo e quelle più rare le tengo sempre nel set Poi se riesco a trarne altre le metto in queste buste, in queste bustine, guardate tutte le figure di Messi, qua tipo ho doppio di Brasil 2014 Ne ho qualcuna in versione russo nel 2018, anche Gold Edition, la Coppa America e poi qualcuna in Maya Barcellona Che fa sempre comodo Leo Messi Poi raga abbiamo anche un bel po' di figurine di Cristiano Ronaldo che ha, come Leo Messi queste sono veramente tantissime esaurite Tipo questa esaurita di Germain nel 2006, questa esaurita, questa forse esaurita, questa esaurita C'era, vedete, tutte quelle che suscitano a raccimolare di CR7 doppie soprattutto, tipo queste qua le ho già tutte Poi ovviamente ce ne sono di più rispetto a Messi perché abbiamo anche la versione Serie A E quindi riesco sempre ad ordinare tantissime di queste, riesco sempre ad averne tante, ne trovo tante doppie nei pacchetti E soprattutto abbiamo quelle del Real Madrid Che è la squadra con cui forse ha fatto meglio in tutta la sua carriera Poi raga ovviamente c'ho Kylian Mbappé Che poi raga, obiettivamente sono molte di più le figurine che ho ad esempio di Messi, CR7 E solo che le tengo nel set, non le tengo qua dentro queste bustine, queste qua sono tutte doppie di solito Vedete Kylian Mbappé in versione Gold Edition, quelle in versione PSG, quelle in versione sempre PSG Quelle che abbiamo appena trovato in uno spacchettamento e poi ne ho due di versione Euro 2020 preview Queste figurine secondo me ordinatele perché secondo me c'erano un sacco di poline d'oro sto ragazzo obiettivamente Quindi vanno ordinate, soprattutto queste qua di Russo 2018 che ha vinto il mondiale raga Ordinatele il più possibile perché andrà esaurita a brevissimo secondo me Questa raga è la rookie di Kylian Mbappé che come vi dicevo le tengo nel set, non le tengo in queste buste È la numero 505 che andava legata con una 504 di questa raccolta Ebbene sì raga è la rookie e ha un valore estremamente alto perché se non erro non sono informatissimo ma va oltre i 300 euro Mi sembra una cosa assurda, sta continuando a crescere e penso che saranno introvabili queste figurine qua Poi raga ho le figure di Shevchenko che questa è la sua rookie Figure di Paulino Di Bala che mi manca la rookie perché ce l'ho nel set ma qua ce l'ho tutte le altre Del Toro Martinez che per ora sono solo tre figurine Che sono la prima che è quella della stagione scorsa Poi abbiamo la versione della Copa America E poi abbiamo la versione dell'Inter di quest'anno Quindi tre figurine totali di Lautaro Che poi raga tra l'altro queste due qua sono fatti della stessa identica foto Cioè nel senso sono solo cambiato le maglie ma la foto è uguale, identica, solo photoshopata Poi abbiamo le figure di Baggio, collezioni di Paolo Maldini Cerco di collezionare di Andrea Pirlo che ne ha valente tantissimo ultimamente Di Ricky Kakà, di Neymar e di Donnarumma raga E raga così come Mbappé raga cercate di raccomandare più figure di queste possibili Perché è la sua rookie e sicuramente avrà un buon valore Sicuramente non come Mbappé però avrà un buon valore È un ottimo portiere raga Donnarumma obiettivamente Queste qua sono tutte le sue figurine che sono uscite finora E sono tutte doppie, triple, quadruple, quintuple Ricordate che ne ho già una in tutti i set Poi abbiamo le rookie di Zanetti raga che così come Mbappé e gli altri La rookie esiste ancora solo che è del 1900 quindi Affrettatevi perché sta per finire Sergio Ramos, Modric, Palone d'Oro Raga Pogba non è più possibile ordinare la sua rookie Da circa una settimana è tutta esaurita Quindi raga addio rookie Poi abbiamo Andresigny Estak, Eden Hazard Martinelli che ne esiste solo una Ansu Fati che però ne esiste solo una De Jong, Rodrigo, Salah Yito, Zidane, Bale E poi raga ho Patrick Cutrone perché è un ragazzo Da mia città e obiettivamente all'inizio Poteva veramente esplodere All'inizio era partito veramente molto bene Il Wolverhampton poteva svoltare Però così non è stato quindi non so se la continuerò questa figu carriera Per ora queste due sono le sue figurine uscite In più c'è quella anche che è uscita negli aggiornamenti di quest'anno Con la maglia della Fiorentina Che mi manca e non penso neanche di volerla trovare Perché non mi interessa obiettivamente avere cutrone A figure carriere di cutrone Comunque è nato a Como Che è tra l'altro il mio stesso anno Ed volevo... Ci credevo in lui, in questo ragazzo Poi raga abbiamo le numerevoli figure di Gigi Buffon Che raga la rookie ce l'ho nel set E non ci voglio stare qui a acquistarla Spendendo altri magari 20-25 euro per una rookie Però tutte quelle doppie che riesco a trovare in Parigi Di solito le collezioni ce l'ho qua dentro Ce l'ho quasi tutte Forse pochissime ne mancano Come scuola dei tempi di Euro 2000 Del Mondiale 2002 Un po' di quella maniera di Juve Euro 2004 Dell'anno in cui ha vinto il Mondiale Germania 2006 Ce l'ho doppia tra l'altro raga Poi quando era in Serie B con la Juve 2008 E così via raga guardate quante Che ne ho anche di Gigi Buffon Ne ho vinto tantissimo Ne ho un bordello Euro 2016 Euro 2016 versione Con la Svizzera questa Piatinata Guardate qua quante Ce l'ho doppia versione anche del PSG E poi ho tutte quelle di quest'anno Che ne ho tantissime E in più ho messo anche questa Gianluigi rientro col record Poi raga c'è le figure del Kunaguero Che raga ho tagliato una Che mi serviva per queste sicure carriere In quella Copa America 2007 L'ho tagliata Non so se vi ricordate Poi quella di Van Basten Di Cannavaro Questa qua è l'unica che ho di Batistuta Ed è anche esaurita in panini Obiettivamente Quindi sono fortunatissimo Perché era l'ultima Che mettevano in vento probabilmente Adesso raga Se lo vedete Hanno meno di 10 euro La trovate sicuro Poi ce le ho tutte di quelle di Mauro Riccardi Tranne quelle del PSG di quest'anno Zlatan Ibrahimovic Esposito che è solo una Franceschino Totti raga Che raga anche di Totti Non ne ho tantissime Perché sono veramente tante E soprattutto molte esaurite Sto cercando di ultimarla pian pianino Però raga veramente Quindi Totti costano una fucilata Però queste sono tutte quelle Che sono riuscite a raccimare in panini Quindi ci sta Guardate qua quante di Totti E questa è l'ultima Che chiude la sua carriera Maestosissima Poi abbiamo il Diego Il Principe Emilito Xavi Hernandez Luca Toni Raga che questa è la sua rookie Toni Ronaldo il Fenomeno Suarez Griezmann E Zagnolo raga Che la sua rookie Si può ancora trovare Al prezzo di 40 centesimi Così come Donnarumma raga Affrettatevi perché Fra poco andrà via sicuro Tutti la stanno ordinando Quindi A breve andrà esaurita Vi faccio vedere Quelle che sono riuscite a trovare Di Ronaldo il Fenomeno Doppie raga Abbiamo queste due colomaglie dell'Inter E queste colomaglie del Brasile Eccole qua Molto belle Di Ronaldo il Fenomeno E una colomaglie del Milan Soprattutto E niente raga Spero di trovarne delle altre Queste sono quelle che ho doppio Obiettivamente ho anche quelle del 2002 Però sempre nel set E poi raga Come ultimo La figura doppia Di Erlich Haaland Che l'ho messa qui Dentro questa cosa qua Perché mi sembra Bello rigido E ne era solo una E non volevo rovinarla in nessun modo Una c'era nel set E una la tengo qua Guardate Guardate qui anche il capitano storico del Milan Paolo Maldini Ne ho qualcuna doppia raga Guardate qua Che belle figurine così Fanno impazzire a me veramente E la prima Risale al Tour 92 Quelle che ho Che la prima Doveva essere nell'88 La bestia della rucca di Maldini Quindi non sono andato tanto lontano Poi raga C'ho anche Zidane Bale Ronaldinho Close Phil Foden Che è la sua rucca della Panini Questa Raga Con tutte queste bellissime figurine Ora Vi lascio ai saluti Raga con queste bellissime figure di Fabio Cannavaro Che ho anche quella del 2006 Che è quella lì in mezzo Voglio salutare Kill Monster Antonio De Prisco Vittorio Pisi Jacob Tan Saverio Paglionico Andreuo 9 Alessandro Daniel Lorenzo Zesi One Player GX Gabrix Domenica Bartolone Mario E Pasquale Raga Detto questo Vi lascio al prossimo video